Prima del prossimo concorrente, è doveroso un ingraziamento agli enti che, con la loro attenzione e sensibilità, permettono annualmente l'attuazione del concorso internazionale di violino, premio Rodolfo Lizza. Una manifestazione che ha portato il nome di violizza nel mondo e che si svolge sotto l'altro patrocinio della Regione Autonoma Piole di Venezia Giulia, il patrocinio del UNESCO, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Piole di Venezia Giulia, del Comune di Gorizia e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, con la sponsorizzazione della Cassa Rurale PVG Credito Operativo Italiano e tutti i privati che appaiono nella brochure. Il quarto concorrente della serata è Sato Reca, di anni 24, nata a Dragano, in Giappone, di nazionalità giapponese e cittadinanza giapponese. Presenterà di Mozart, Concerto in Re Maggiore, KB 218, Terzo Movimento e Cadenza di Joachim, accompagnata dalla pianista Mizuko Furkumo. Come secondo pezzo presenterà di Witzer, Variazioni, Moderato, Allegro Vivace e Allegretto Brillante, dalla tecnica superiore del violino. Per terzo, Sivori, Studio Capriccio numero 4, dall'Opera 25. Infine, di Bach, Adagio e Fuga, dalla prima suonata in sol minore. Sivori, Studio Capriccio numero 4, dall'Opera 25. Sivori, Studio Capriccio numero 4, dall'Opera 25. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti.